E' suonata questa mattina per poco più di 74.000 studenti comaschi la prima campanella dell'anno scolastico 2024-2025. I problemi però restano gli stessi e sono quelli legati al personale, carenza di dirigenti e di docenti di sostegno. Nel primo caso su 65 in totale in provincia di Como ne manca ancora un terzo. In molti casi i presidi si troveranno a gestire due scuole. Sul fronte del sostegno all'appello ad oggi mancherebbero un centinaio di docenti. In totale gli insegnanti in provincia di Como sono 8.000. A fornire numeri e chiarimenti sulla situazione al dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Como, Giuseppe Bonelli. I problemi ci sono sempre. Quest'anno direi in maniera accettabile nel senso che abbiamo ancora alcune cattedre scoperte ma in maniera diciamo tollerabile. Le scuole hanno cominciato più o meno tutte con un orario accettabile. Abbiamo una scopertura sui dirigenti scolastici, ne mancano ancora un terzo e cerchiamo di avviare al meglio quest'anno scolastico. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno la problematica è duplice. Da un lato la difficoltà per questa provincia di reclutare perché è una provincia di confine, una provincia con tanti paesi di montagna. Quindi non diciamo opzionata preferenzialmente dai docenti all'atto di scegliere la propria collocazione. Dall'altro abbiamo una difficoltà di reclutamento nel senso che le specializzazioni di sostegno non vengono scelte come carriera principale da parte dei docenti. Quest'anno però sono state potenziate le pratiche di reclutamento, abbiamo avuto un concorso riservato. Contiamo entro un mese di avere tutti gli insegnanti disponibili. Infine l'augurio rivolto a tutti gli studenti comaschi. L'augurio maggiore che dobbiamo fare a questi ragazzi è di fare una bella esperienza e di trovare stimoli per il loro futuro.